cercherò di utilizzare le parole più dolci che io conosca forse sta per arrivare la 3080 ti ciao belli bentornati sul punto di gi io sono il vostro g e oggi voglio fare un video diverso con voi voglio fare una chiacchierata più di altro un ragionamento da consumatore allora sappiamo che la serie 3000 di nvidia sta facendo faville da tutte le parti ci sono possessori di 2080 ti hai che stanno correndo praticamente a vendere la propria scheda grafica per acquistare una 3070 mossa sbagliatissima ma va bene i soldi sono i vostri c'è chi effettivamente ha acquistato una 3080 del super mega contento di questa cosa sebbene non siano ancora uscite le review ufficiali no effettivamente questo video uscirà il giorno dopo delle review quindi ok adesso è anacronistica come cosa ma io sto registrando prima che escano le review e ci sono persone come me oltretutto che vorrebbero acquistare una 3090 adesso la 3090 non è una scheda grafica per giocare lo sappiamo il prezzo è altissimo chi spenderebbe mai 1500 euro per una scheda grafica soltanto per giocare oddio c'è chi si è comprato la 2080 ti due anni fa ma ok quello quelli erano altri altri casi la cosa sulla quale vorrei un farvi ragionare è che prima che fossero anche annunciate le rtx 3000 ci furono dei leak molto importanti link che comunque vi lascio in descrizione così che possiate andare a vedere voi si parlava di una variante della 3080 che avesse 20 gigabyte di memoria grafica adesso i leak possono benissimo essere delle cavolate ma quando il leak viene da videocards.com che ha praticamente azzeccato qualsiasi dettaglio riguardante le rtx 3000 beh effettivamente le qualche domanda comincio a farmela in pratica questo famoso sito di leak comunque di informazione eccetera eccetera ha fatto notare una cosa a molti a molti utenti e cioè che invidia chiama la propria founders edition della 3080 10g ok una persona molto intelligente allora anche molto curiosa ha chiesto ma quindi quando invidia dice che ci sarà c'è una versione founders 10g significa che ci sarà anche una versione 20g la risposta di videocards è stata sì è pianificata dopo la 3060 ti e dopo big navi allora qui sono state lanciate due bombe effettivamente abbastanza pesanti io vi ripeto è un leak è un leak ma videocards ha azzeccato il 90 per cento delle cose che sono state poi annunciate effettivamente se amd che sappiamo avere due conferenze nel mese di ottobre una l'otto ottobre e un'altra il 28 ottobre l'otto parlerà delle cpu ryzen 4000 e probabilmente il 28 ottobre si parlerà della rx 6000 big navi eccetera eccetera sappiamo che amd non ha una storia brillantissima per quanto riguarda schede video di fascia alta sappiamo che la battaglia tra amd e nvidia si combatterà più che altro nella fascia 3070 e schede grafiche di fascia inferiore ecco perché probabilmente si sta già parlando di 3060 ti perché amd è sempre stata maestra nel fornire un prodotto che avesse un'ottima qualità prezzo prestazione però evidentemente questa big navi fa un po paura al colosso verde c'è un altro leak che sta ad avvalorare questa questa teoria questa teoria e cioè il fatto che già il vi dico subito il 2 luglio 2020 si parlasse già di una 3080 ti con un render di una rogue strix dell'asus ovviamente 3080 ti questa cosa potrebbe benissimo essere un falso o potrebbe benissimo essere un leak di quelli belli succosi perché o ci fa capire che dato che ovviamente un produttore di schede grafiche non è che lo sa il giorno prima quali modelli deve preparare nvidia casomai già da sei mesi sta dicendo ai produttori guardate dovete fare questa scheda questa scheda e questa scheda però la rilasciate quando diciamo noi evidentemente questo qui era un render del modello o comunque una scheda grafica vera io credo sia più un render che è stata cliccata appunto per creare hype oppure come ho detto nvidia ha praticamente fatto creare le schede ha fatto produrre le schede a tutti i vari produttori e poi sta pianificando un rilascio graduale perché lo so che sembra brutto dirlo ma nvidia è almeno due passi avanti rispetto md per quanto riguarda il comparto grafico basta vedere il successo che hanno avuto le rtx serie 2000 nonostante fossero sovra apprezzate tantissimo e basti vedere il successo che stanno avendo effettivamente adesso le serie rtx 3000 e non sono ancora uscite adesso il succo del discorso mio che vi sto facendo qual è vale davvero la pena comprare una rtx 3090 no io stavo pianificando di non comprarla comunque all'inizio il preordine è un'abitudine che mi sono tolto qualche annetto fa perché le schede grafiche soprattutto i primi batch di produzione o sono in numero molto molto scarso o vengono a costare di più perché appunto sono in numero scarso oppure arrivano difettate io spero che ciò non succeda a nessuno di voi se avete ordinato una 3080 o una 3090 quando sarà disponibile per il preorder ma sappiate che c'è la possibilità questa è una cosa che non si augura a nessuno se succede sempre penso che mi impiccherei ma se ci andate a pensare la 3080 costa 719 euro la 3090 costa 1549 euro ci sono circa 800 euro di differenza io credo che una 3080 ti nel mezzo che mi costi anche 999 euro che abbia 20 gigabyte di ram e abbia qualche cuda corri in meno della 3090 e non credo che sia effettivamente un'alternativa tanto mala anche perché se andiamo a pensare che appunto ci sono 800 euro di differenza anche se me la metti 400 euro in la 1080 ti rispetto alla 3080 c'è comunque risparmiare un bel po di soldi e sappiamo di storicamente appunto che la versione 80 ti ha un 5 per cento in meno della versione titan perché la 3090 ricordiamo è sempre la titan di questa generazione nulla io sono effettivamente abbastanza combattuto credo bisognerà fare il tifo per amd affinché invidia tiri fuori una scheda grafica più potente nel minor tempo possibile è un controsenso questo è anacronistica come cosa ma va bene questo è il bello della competizione per quanto riguarda un prodotto cioè se si riesce ad uscire con lo stesso prodotto che abbia le stesse prestazioni mi chiedo scusa con un prezzo leggermente inferiore la casa concorrente tenderà ovviamente o a cacciare un prodotto migliore o ad abbassare i propri prezzi ed è solo di guadagnato per noi consumatori perché otteniamo di più spendendo meno soldi fatemi sapere cosa ne pensate voi io vi lascio tutti i link in descrizione in modo tale che possiate andare a vederli anche voi vi prego ovviamente di mettere un mi piace di iscrivervi al canale di accendere la campanella perché questi tre semplici passi per voi aiutano davvero davvero tanto il canale e raga a questo punto consiglio anche a voi non comprate subito una 3090 aspettiamo un attimo le recensioni con calma posso capire l'hype anche io sono ipato a bestia come voi aspettiamo però aspettiamo secondo me riusciamo a risparmiarci un bel po di soldi e a portarci a casa delle schede grafiche con i contro fiocchi davvero grazie mille per aver seguito il video e ci vediamo al prossimo sempre qui sul punto di g sempre qui col vostro g ciao